piatto unico light dimagrante con zucchine facile e velocissimo ciao amici ecco un'altra delle vostre ricettine golose quella di oggi è di anna che mi segue da tanto tempo mi scrive sempre e mi manda tanti baci e oggi te ne mando anch'io per questa ricettina sfiziosa ciao anna è un piatto unico light dimagrante con zucchine e uova se non vedete l'ora di leggere la ricetta mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video volete mandarmi anche voi le vostre ricettine scrivetele nei commenti e le più golose e sane diventeranno un video ingredienti 250 g di zucchine 2 uova 1 2 cipollotti un cucchiaio di olio extravergine di oliva un cucchiaio di parmigiano prezzemolo tritato a piacere sale pepe quanto basta preparazione tagliare le zucchine a tocchetti piccoli e i cipollotti a fettine sottili in una padella versare mezzo bicchiere di acqua olio prezzemolo sale pepe riscaldare e aggiungere zucchine e cipollotti cuocere a fuoco moderato finché le zucchine sono cotte ma ancora un po croccanti a parte sbattere le uova con sale pepe e parmigiano poi aggiungerle alle zucchine e strapazzare le uova servire e mangiare subito il trucco dello chef lasciare le zucchine croccanti prima di aggiungere l'uovo così a fine cottura sono morbide ma compatte e non spappolate benefici è un piatto unico proteico leggero ma nutriente le zucchine sono detox diuretiche e hanno pochissime calorie le uova sono molto nutrienti ma meno impegnative della carne così non fanno venire la biocco dopo mangiato io lo adoro questo piatto facile buono e veloce cosa di più e adesso potete provarla anche voi e dire nei commenti a me e anna come è andata la ricettina io aspetto le vostre ricette sono sicura che saranno buonissime nel frattempo per vedere tante altre ricettine sane sfiziose già pubblicate basta iscriversi al canale con un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto attendo di leggervi nei commenti mangia consapevole e vivi meglio vuoi approfondire questi argomenti e incontrarmi di persona partecipa agli eventi vacanze e soggiorni di benessere che organizzo in tutta italia prenota un coaching di naturopatia personalizzato con me e ottieni il massimo per il tuo benessere vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video i link ai miei libri ed ebook i motivi per cui divulgo la mia esperienza seguimi sul canale sui social clicca mi piace condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito ogni giorno sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao